Più di 700 ragazzi delle scuole Calvino, Frank, Casa del Fanciullo, Pezzani, Sante Ufemi e Comprensivo di Rivergaro si sono scatenati questa mattina in Piazza Cavalli grazie all'iniziativa Un Campione per Amico. Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta, Yuri Chechi e Adriano Panatta, i ridati di calcio, volley, ginnastica e tennis hanno fatto da insegnanti speciali agli studenti cercando di trasmettere i veri valori umani e sociali dello sport. C'è tanto entusiasmo, musica, divertimento. Diciamo che il calcio è quello un pochino più appetibile ma vedo che anche il tennis, Yuri e Andrea sono molto appetiti anche loro. Inevitabile un pronostico sui mondiali che arrivano? Io sono fiducioso, arriviamo tra i primi sei. Quattro campioni del mondo che danno un impulso nuovo, un impulso di condivisione in cui giocare a tennis, giocare a pallavolo, tirare un calcio di rigore, fare delle attività con Yuri Chechi e alla fin fine danno l'opportunità di comprendere quanto sia bello, vivere lo sport, sorridendo e soprattutto divertendosi. Voi campioni del mondo ne uscite ricaricati? Anche un po' stanchini alla fine perché sono tanti, però stare con loro è sempre bello perché ti fa sentire giovani. Loro sono il nostro futuro e quel poco che possiamo dargli per crescere meglio lo facciamo con molto piacere. E chissà che tra tanti bambini non possa poi esserci un campione del mondo di domani.